Navigheremo il rio Nepo, da Manaus fino al nord della Colombia, per duemila chilometri. Io racconterò la vita dei popoli indigeni minacciata da taglialegna, narcotrafficanti, sfregiata dal turismo sessuale, dagli sversamenti di petrolio e la natura bellissima a sta roccia della selva. Navigheremo nell'affluente rio Unini e incontreremo le comunità che vivono solo di ciò che fornisce la foresta presso la riserva estrattiva. Il Kama, gruppo etnico animista di cui restano cento individui, e i NUKAK, che vivono in Colombia, cacciati dalle loro terre dagli ex guerriglieri FARC. La malassunta, così si chiamerà la nostra barca, dopo due mesi tornerà a Manaus. Sarà donata l'associazione Piccolo Nazareno, che lavora con i ragazzi di strada nel quartiere degradato Colonia Antonio Alexo, avvelenati dal consumo di droga, dalla prostituzione minorile, dalla violenza domestica, e diventerà una scuola galleggiante, degli ultimi, dove si potrà studiare e discutere, con una biblioteca itinerante per i giovani del villaggio di Metrofi. Fitzcarraldo, nel film di Herzog, proprio nel teatro di Manaus, la città da dove partiremo, aveva sentito cantare il grande Caruso e voleva costruire un teatro dell'opera Iquitos, in Peru. Per farlo, dovete trascinare una nave a vapore di 320 tonnellate fino a un'altura, per poi riportarla sul rio delle Amazzoni. Nel film Klaus Kinski, l'attore che ne interpreta la parte, ripete più volte, chi sogna può muovere le montagne. Aiutateci con le vostre donazioni a realizzare il nostro sogno. Il film Klaus Kinski, l'attore che non si riuscì, il film Kinski, l'attore che non si riuscì. Grazie a tutti.